Caltanissetta, litigano armati di coltello, intervento della polizia, due denunciati. Rai dell'Adresco, nella notte a Palazzo del Carmine, presi di mira i distributori automatici di snack e bevande. Sant'Elia, Luigi Basile, direttore di neurochirurgia, nomina ufficializzata dal direttore generale dell'ASP, Alessandro Caltagirone. San Domenico, dopo scuola gratuito in parrocchia, con l'impegno dei volontari. La meditazione per conoscere noi stessi, iniziativa di Aldo Cammarata, San Cataldo. Stadio Tomaselli, il punto della situazione, sembra più vicina la data della riapertura. I poliziotti della sezione volandi hanno derunciato alla locale procura della Repubblica due uomini. Un 53enne e un 29enne, a vario titolo, per i reati di porto di armi ad oggetti, atti ad offendere, resistenza e minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento. Sabato sera, l'equipaggio di una volante, a seguito di richiesta pervenuta alla sala operativa della Questura, è intervenuto in Via Red Italia, dove erano stati segnalati due uomini armati di coltello. I poliziotti hanno identificato i due contendenti. Un 29enne, che poco prima, in stato di agitazione, armato di coltello, aveva danneggiato il portone di una comunità di accoglienza e due autovetture parcheggiate nella predetta via. E un 53enne, che, armato di mannaia e di coltello, era sceso in strada dalla propria abitazione per affrontare il 29enne. I predetti, bloccati dai poliziotti, coadiuvati da un equipaggio dell'arma dei carabinieri, sono stati sottoposti a perquisizione personale e condotti in Questura. Nella fase della identificazione delle perquisizioni, entrambi fermati hanno posto resistenza nei confronti dei poliziotti, cercando di colpirli con calci e pugni. La mannaia e i due coltelli sono stati sequestrati. Caltanissette e furti di monete e merce dai distributori. Questa volta ad essere stati forzati sono i distributori di snack all'interno del comune Nisseno. Già nei giorni scorsi due eventi simili. Uno ha riguardato i distributori H24 in via Consultore Benintendi, l'altro in via San Giovanni Bosco, entrambi forzati. Per entrare dall'interno del comune si sarebbero introdotti dall'accesso di salita Matteotti e poi hanno raggiunto il secondo piano. Lì avrebbero forzato i distributori e trafugato il denaro. Sul posto, dopo la segnalazione di un dipendente, sono arrivati gli uomini della Polizia di Stato e della scientifica che hanno eseguito i rilievi. Sui fatti stanno lavorando gli inquirenti. Sarà in servizio già da mercoledì 16 novembre il nuovo direttore di neurochirurgia dell'ospedale di Santeria di Caltanissetta. Si tratta del dottor Luigi Basile, dalla chirurgia cranico-encefalica alla chirurgia arachide cervicale midollare fino alla chirurgia arachide dorso-lombo-sacrale della spasticità e del dolore cronico. La carriera del dottor Basile è arricchita da competenze trasversali in più branche neurologiche. 58 anni laureato in medicina e chirurgia all'Università degli Studi di Catania. Nell'88, dopo la specializzazione in neurochirurgia, sempre nell'Ateneo Etneo, è stato un neurochirurgo avarese dove è rimasto fino al 2010. Poi, tornato in Sicilia, ha intrapreso il nuovo percorso all'interno della neurochirurgia dell'AU Policlinico Paolo Giacone di Palermo, docente a contratto della scuola di specializzazione in neurochirurgia del Master di secondo livello in terapia del dolore dell'Università degli Studi di Palermo, l'Ateneo in cui insegna anche come docente. Il direttore generale Alessandro Caltagirone dice, sono certo che il dottor Basile saprà mettere a frutto la sua competenza e esperienza per sviluppare e crescere le potenzialità della nostra neurochirurgia. La nomina, peraltro, arriva in un momento favorevole che coincide con il ripristino del monello organizzativo alla fase pre-Covid. Da oggi il reparto di neurochirurgia avrà la sua piena identità e non sarà più accorpato alla chirurgia vascolare, valorizzando il nuovo ruolo di centro hub di riferimento per i traumi delle province di Caltanissettenna e Agrigento. Una riorganizzazione, dice ancora il direttore generale, logistica ancora più favorevole, anche tenuto conto dell'imminente inserimento della neurochirurgia all'interno della rete dello STROC. Nuove possibilità di accesso negli asili nido comunali. È stata disposta infatti l'apertura delle iscrizioni per l'anno educativo in corso per i lattanti, cioè i bambini da 3 a 12 mesi. Tre i posti disponibili nell'asilo nido di Santa Petronilla, sette nel caso del Pasolini, pubblicato infatti sul sito del comune Il Bando. Una buona notizia annunciata anche attraverso i social dall'assessore Arramo Cettina Andaloro. Sarà possibile inviare le domande entro le ore 12 del 7 dicembre 2022 tramite posta certificata all'indirizzo protocollo chiocciolapec.comune.caltanissetta.it oppure mail all'indirizzo ufficio.protocollo chiocciolacomune.caltanissetta.it In entrambi i casi indicando nell'oggetto la dicitura nuova domanda di iscrizione asilo nido anno 2022-2023 o ancora potrà essere presentata all'ufficio protocollo del comune o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al signor sindaco del comune di Caltanissetta, direzione settima politiche sociali sociosanitarie scuola Corso Umberto 134. Anche in questo caso bisognerà inserire la stessa dicitura nel plico. La modulistica è scaricabile dal sito del comune o ancora disponibile presso lo sportello della direzione in via De Gasperi. Verranno poi assegnati dei punteggi e sarà stilata una graduatoria. Le emissioni saranno effettuate sulla base dei posti resisi disponibili nelle sezioni lattanti degli asili, si legge nel bando, che fa anche riferimento alla questione rette mensili. Importo calcolato in base alla fascia di reddito. Servizio gratuito per chi possiede un'isee da 0 a 3.215,20 euro. Per la giornata regionale delle vittime delle miniere, venerdì pomeriggio nella chiesa di San Giovanni, si è tenuto un incontro di studio per ricordare le zolfare e il rapporto con la chiesa dell'epoca. Giornata istituita dal presidente oscente della regione siciliana Nello Musumeci per ricordare la strage di Gessolungo avvenuta nel 1881, dove a causa di una scindilla di Grisù si verificò il tragico avvenimento. All'evento, organizzato dall'ufficio diecesano di Calfanissetta, sono intervenuti per un saluto padre Alessandro Rovello, direttore dell'ufficio diecesano, padre Michele Quattrocchi, rettore della chiesa di San Giovanni, e Filippo Ciulla, presidente dell'associazione culturale Michele Abbate. Per approfondire l'argomento, moderati della dirigente scolastica Laura Zurli, sono intervenuti la professoressa Fiorella Falci, che ha parlato di chiesa nissena e zolfatai, e Luigi Bondà, che ha parlato di come la zolfara di oggi potrebbe essere una risorsa di sviluppo. Abbiamo pensato, come ufficio cultura della diocesi, di dedicare un momento di riflessione alla storia degli interventi della chiesa nissena nel mondo della zolfara, perché, al di là degli stereotipi o di quello che i medi hanno tramandato, c'è stato un lavoro molto interessante in diverse epoche della storia della zolfara tra la fine dell'Ottogento e la prima metà, i primi settant'anni del Novecento, che ha visto protagonisti, personaggi della chiesa nissena con delle opere estremamente importanti. Ci troviamo qui a San Giovanni, dove è nata il centro sociale Gesù Divino Lavoratore, che padre Salvatore Buccoleri, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, riuscì a costituire, coinvolgendo i lavoratori delle zolfare e tutti gli operai delle varie aziende che lavoravano nella città di Caltanissetta. Prima di lui, tra la fine dell'Ottogento e l'inizio del Novecento, un altro religioso, il venerabile padre Angelico Lipani, di cui è incorso la causa di beatificazione, ha addirittura costituito una congregazione di religiose, le suore francescane del Signore della città, proprio con la finalità di assistere le orfane, le mogli e le figlie degli zolfatari che morivano nelle stragi in miniera, dare loro un'istruzione, un'accoglienza, una formazione professionale, accompagnarle al matrimonio, cioè un'idea pastorale, non tanto solo caritativa, ma che puntava alla promozione umana, alla valorizzazione di queste personalità. Accolgono i bambini ogni giorno per circa due rette e li aiutano a svolgere i compiti assegnati a scuola, dalla matematica all'italiano, dalla storia alla geografia. Arrivano dai 15 ai 25 bambini e bambine con lo zaino e spalla, libri, quaderni, colori, e si siedono attorno ad un tavolo per studiare in compagnia, insieme ad altri coetanei, e soprattutto con il supporto di persone competenti e che mettono a disposizione degli altri il proprio tempo, impegno e professionalità, spinte da un senso di solidarietà. Dal 7 novembre, infatti, nei locali della parrocchia di San Domenico viene garantito il servizio gratuito di dopo scuola, grazie all'opera di quattro volontarie della Croce Rossa e anche di altre persone, alcuni insegnanti per mestiere, che hanno deciso di aderire volontariamente. Un'attività presente in parrocchia da più di dieci anni. Noi ci occupiamo dei bambini, dalla prima elementare alla terza media e qualche ragazzo di biennio superiore. Quello che gli diamo è l'aiuto nel fare i compiti. Molti bambini non sanno leggere, non sanno scrivere, abbiamo bambini con problemi proprio di comunicazione, quindi cerchiamo di dare un aiuto a 360 gradi, per quello che si può fare con le difficoltà che hanno questi bimbi, questi ragazzi. L'importanza di questo servizio è proprio perché avviene in questo quartiere, avviene con dei bambini che appartengono a famiglie che molto spesso noi assistiamo a 360 gradi, quindi con l'aiuto della parrocchia, con l'aiuto dei nostri volontari di Croce Rossa e soprattutto con dei cittadini che si mettono a disposizione della Croce Rossa per poter svolgere questo tipo di servizio. Croce Rossa nei suoi percorsi legalità assieme alla parrocchia di San Domenico, a padre Alessandro Rovello, che ringrazio per la disponibilità, cerca di essere presente in questi territori e in questi quartieri proprio per avere più fini solidaristici nei confronti non solo dei bambini ma anche delle famiglie. È soprattutto un progetto, è un percorso per quella crescita integrale che tutti noi ci auguriamo, una crescita che è culturale, una crescita che è nella capacità dell'ascolto reciproco, una crescita nell'amicizia, una crescita verso la via del bene. E questo progetto lo portiamo avanti in collaborazione con la Croce Rossa da tantissimi anni e siamo molto felici, molto orgogliosi che ci sia una bella risposta da parte dei bambini, dei ragazzi, ma anche delle famiglie che apprezzano particolarmente questo servizio. La meditazione è uno dei più importanti strumenti che lo yoga ci offre per conoscere noi stessi. Si chiama Sahaya Yoga, il percorso che Aldo Cammarata organizza tutti i lunedì sera nella sala Borsellino a San Cataldo. In questo percorso le persone scoprono di cosa si tratta, quali sono i suoi immensi benefici e come praticarla. Siamo tutti diversi, la nostra mente funziona diversamente e quindi ognuno di noi risuona meglio con un differente tipo di meditazione. Accompagnati da canzoni hindu e lunghi silenzi, si entra in uno stato di benessere e meditazione per rinforzare il cuore e l'anima. Sahaja Yoga è il nome della meditazione che proponiamo stasera. È una meditazione che va oltre la mente attivando l'energia che è dentro di noi, è l'energia madre che permea ogni cosa, che è dentro le nostre cellule, che ha creato tutto, che si chiama Kundalini e che è attivata la quale si raggiunge uno stato di consapevolezza senza pensieri, un nuovo stato, il famoso quarto stato della spiritualità, attraverso cui raggiungere armonia, gioia, pace dentro di noi. Siamo molto lieti di ospitare questa associazione che insieme a noi da tempo ha pensato di poter dedicare un momento di meditazione o comunque di rilassamento anche a servizio di tutta la nostra comunità. Voglio fare davvero un plauso alla loro disponibilità attraverso la quale appunto si dà alla comunità di San Cataldo la possibilità di partecipare gratuitamente a questi incontri, una serie di incontri che abbiamo fissato anche per i prossimi lunedì, alla quale insomma noi siamo davvero contenti di poter partecipare. Io oggi sono qui per onorare insomma questo incontro e fare questa esperienza che sicuramente ci porteremo a casa e che ci rinforzerà. La questione legata allo stadio Marco Tomaselli riguardante la segnatura del terreno di gioco ha fatto registrare un'importante novità. Sport e Salute ha inviato la comunicazione di condivisione della perizia di assestamento dei lavori di realizzazione in erba artificiale del campo sportivo Marco Tomaselli. Conseguentemente entro dieci giorni verranno completati dall'impresa esecutrice i relativi lavori. Al completamento delle attività tecniche l'impianto verrà riconsegnato al comune che provvederà a metterlo a disposizione delle associazioni sportive. Lo stadio Tomaselli recentemente la Sport e Salute che è l'interrogatore del finanziamento ha dato l'ok sulla perizia di variante che consisteva nella modulazione del campo per poterlo utilizzare in modo appunto polisportivo quindi sia per il calcio che per il rugby. Una volta sbloccata la procedura nell'arco di pochi giorni ritengo dieci, quindici giorni sarà possibile completare e definire tutto ultimare sostanzialmente i lavori che ormai erano agli sgoccioli e poter avere il campo pienamente operativo sia per le attività del calcio che per l'attività del rugby. Per quanto riguarda le categorie lo stadio così come è realizzato sarà idoneo ancora, sarà richiesta chiaramente l'omologazione sarà idoneo per poter praticare il calcio fino alla serie D e invece per quanto riguarda il rugby potrà essere utilizzato grazie al fatto che il regolamento prevede la possibilità di realizzare le linee anche in modo delebile in modo da poter avere la doppia validazione la doppia omologazione. Per le categorie superiori in realtà il campo non ha un'omologazione diretta per questo tipo di manifestazioni perché oltre al problema legato all'aspetto prettamente sportivo quindi il manto non so, tipo gli spogliatoi le panchine e altro sarà necessario qualora dovesse avvisarsi la necessità di dover adeguare alcuni spazi legati anche alle tribune all'accesso del personale anche degli spettatori che in questo momento non consentirebbero un'omologazione per categorie superiori chiaro che qualora si potesse ravvisare la possibilità di avere delle importanti manifestazioni cioè del comune non si tirerà indietro a poter fare e effettuare quelle necessarie operazioni per poterlo rendere fruibile anche per questo tipo di attività. Bentornati un aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo giornata di martedì con una perturbazione che da ovest raggiungerà tutto il centro nord Italia una perturbazione sospinta da venti oceanici che in settimana ancora interesseranno l'Italia con occasione per delle precipitazioni nel dettaglio possiamo notare di fatto una giornata che vedrà un peggioramento sin dalla mattinata al nord ovest con piogge rovesci sulla Liguria e poi nella seconda parte del giorno fenomeni anche sulle centrali tirreniche ed il nord est in sintesi la mappa dell'Italia e il maltempo in arrivo su parte del centro nord più sole invece al sud con clima mite per i venti di Scirocco dettagli maggiori li trovate scaricando l'app di Trabi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Del Corso Corso Vittorio Emanuele Servizio notturno Pasqualino Via Xiboli Villaggio Santa Barbara 3 Girl